Ciao ragazzi, eccoci in compagnia con il Motorola XUM2 Media Edition, la versione da 8,2 pollici di diagonale, uscita da poche settimane in commercio. Esiste anche la versione da 10.1 pollici, XUM2, successore del primo tablet Honeycomb uscito sul mercato circa un anno fa. In questo video cercheremo di capire se c'era veramente bisogno di una nuova versione dopo nemmeno un anno di presenza sul mercato del primo XUM. Partiamo dal design delle specifiche tecniche, abbiamo una larghezza di 216 mm, un'altezza di 139 mm e uno spessore di 9 mm. Sotto questo punto di vista dello spessore il XUM2 ha migliorato moltissimo rispetto al primo XUM, l'ingombro è veramente nullo, il peso è di 388 grammi, il tablet veramente scompare anche se è trasportato dentro una borsetta di neopreno, insomma scompare dentro la borsa. In quanto a design abbiamo questi angoli smussati, caratteristica che condivide con gli ultimi device Motorola usciti negli ultimi tempi, come ad esempio il Razor, che ha anche lui questi angoli un po' smussati, come se fossero stati tagliati con le forbici. Come vedete. Già che siamo qui sul retro, facciamo vedere questa cover che ha dei materiali in plastica gommata che fanno la cornice a questa cover in alluminio con il logo Motorola. Poi qui in alto abbiamo la fotocamera da 5 megapixel che registra video a 720p con flash led. Sempre qui sulla parte posteriore abbiamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento da usare con la mano sinistra. Nel video unboxing che avevo effettuato qualche settimana fa avevo detto che ritenevo questa soluzione un po' scomoda. Mi devo ricredere dopo qualche settimana di utilizzo e secondo me questa è la posizione migliore per andare a premere il tasto di accensione e spegnimento. Nella parte frontale troviamo questo schermo da 8,2 pollici con risoluzione 1280x800 che rispetto al pannello montato sul primo XUM migliora tantissimo perché è un pannello IPS quindi ha luminosità maggiore, contrasto elevato e colori più vividi. Andiamo a vederlo subito con un video che ho preparato per mostrarvi le qualità dello schermo non so se la luminosità è al massimo per come la vedo io veramente un ottimo schermo il contrasto è molto elevato anche se è accettabile e non troppo forte come succede su altri schermi IPS da me provati e i colori veramente sono molto molto naturali le dimensioni dello schermo e la risoluzione aiutano ad avere una definizione molto molto buona ok spegniamo e continuiamo con il nostro hardware tour sui lati facciamo vedere le casse stereo che hanno veramente un'ottima qualità facciamo sentire un esempio di produzione audio facciamo sentire un'ottima qualità che dire il volume è molto buono molto pulito molto alto casse veramente ottime se poggiamo inoltre se poggiamo il tablet sul tavolo il tavolo non va a tappare le casse perché sono obbligate qui sui lati ma l'incommento è che se prendiamo il tablet in mano come sentite andiamo praticamente a tappare le casse sulla versione da 10.1 pollici le casse sono ubicate qui sulla cover posteriore ok andiamo avanti qui sempre nella parte laterale destra troviamo la porta usb per i dati e per ricaricare il tablet e troviamo anche la porta HDMI qui vedete un vano che starete pensando sarà per le schede SD apriamo e invece troviamo la sorpresina il vano è tappato come potete vedere non è possibile inserire nessuna scheda SD di espansione dovremo accontentarci dei 16 giga presenti a bordo del tablet oppure affidarci a servizi cloud o all'applicazione motocast che permette di visualizzare sul tablet file multimediali presenti sul nostro computer o su un altro dispositivo ma non è possibile quindi espandere lo storage interno con una scheda SD questo ci ha lasciato un po' perplessi evidentemente è una scelta ben chiara di Motorola che vuole indirizzare l'utente verso soluzioni cloud io personalmente non la condivido avrei preferito trovare qui la scheda SD da poter inserire visto che appunto c'è il vano e dalle fotografie che avevo visto in rete avevo notato questo vano quindi pensavo che la scheda SD potesse essere inseribile invece no una scelta che personalmente non condivido bene andiamo avanti vediamo la parte sinistra laterale sinistra troviamo le casse che abbiamo fatto vedere prima è una porta insolita un modulo insolito per un tablet Android si tratta del modulo infrarossi che permette di utilizzare il tablet come un vero e proprio telecomando attraverso l'applicazione Digit vi faccio vedere adesso Digit eccola qui vi fa scegliere il tipo di televisione che avete eccola qui tv per esempio e ce ne sono veramente tantissime di televisione che potete sincronizzare io ho una LG me l'ha trovata al primo colpo e funziona benissimo qui alzate il volume cambio del canale e altre cose insomma molto molto utile cosa che non era presente sul primo Xume praticamente io non l'ho mai visto su nessun tablet molto curioso poi c'è la porta il jack audio per le cuffie che non sono incluse nella confezione dimenticavo parte frontale non ho detto che è un gorilla glass e non me nemmeno fatto vedere la fotocamera per le videochiamate qui c'è un led di stato molto utile come processore troviamo sotto la scocca lo stesso chipset presente sul Motorola Razor cioè l'OMAP 4430 di Texas Instruments con un processore dual core da 1,2 GHz molto potente 1 GB di RAM e la scheda grafica la PowerWR 6GX 540 con clock a 300 MHz che è in grado di dare buone prestazioni anche in ambito video detto questo compariamolo con il primo Xume facciamolo vedere bene a parte le ditate che sono d'obbligo su un tablet vediamo un po' le dimensioni ovviamente questa è la versione da 8.2 non è possibile fare una comparazione esatta ma comunque Xume 1 vedete gli angoli come sono e invece qui in questo caso sono stati un po' tagliati come vedete anche in quanto ha spessore le cose sono migliorate sensibilmente soprattutto in questa parte qui bene eccoci giunti alla parte software purtroppo il Motorola Xume 2 non arriva in tempo per essere equipaggiato con l'ultima versione di Android 4.0 Ice Cream Sandwich dovrete accontentarvi di Honeycomb 3.2 con tutti i limiti che ha questa versione come ben tutti conoscete comunque il tablet funziona veramente molto bene molto fluido il sistema operativo anche grazie al processore da 1.2 GHz a bordo la personalizzazione dell'interfaccia è praticamente nulla trovate le solite 5 schermate di Honeycomb che potete personalizzare con tutti i widget che sono presenti su qualsiasi tablet Honeycomb a parte alcune piccole eccezioni per esempio questo orologio con meteo incorporato a livello di personalizzazione software troviamo diverse applicazioni per la produttività andiamo a vedere quello che c'è per esempio Citrix che è un'applicazione per poter utilizzare servizi remoti alloggiati su server virtuali questi servizi per esempio Microsoft Word PowerPoint Excel e altri pacchetti della suite Office o addirittura poter utilizzare un sistema operativo alloggiato appunto su un server virtuale praticamente una virtualizzazione del sistema operativo possiamo effettuare una prova carichiamo Windows 7 ad esempio l'applicazione è a pagamento ovviamente anche se come vedete vi lascerà fare delle prove a questo punto state proprio utilizzando il Windows attraverso il tablet ok torniamo indietro facciamo vedere per esempio il Word eccolo qui qui ci carica praticamente questa dovrebbe essere una fattura comunque come vedete avete a disposizione un Word vero e proprio ok torniamo indietro facciamo vedere qualche altra applicazione per la produttività è presente Fuse Meeting che è un'applicazione per le videoconferenze possiamo vedere una demo eccoci qui stiamo effettuando una videoconferenza demo con una persona che penso che sia una responsabile del team di Fuse Meeting per le versioni di prova hola ok ok passiamo avanti facciamo vedere Sketch che è un'applicazione per l'editing di foto che ci permette anche a questo punto di far vedere la fotocamera il funzionamento utilizzando il nostro amico Spock eccolo qui ovviamente la fotocamera non è assolutamente personalizzata da Motorola trovate le stesse impostazioni che potete trovare su qualsiasi tablet o Nicomb andiamo a scattare una foto l'autofocus è abbastanza buono non è possibile effettuare il focus premendo su una parte dello schermo dovete affidarvi all'autofocus software ok andiamo per esempio a editare questa foto con Sketch l'applicazione di cui vi parlavo prima è possibile scrivere qualcosa oppure andare a disegnare qualsiasi cosa ci venga in mente o di prendere e spostarle dove vogliamo altre applicazioni presenti preinstallate sul Motorola XUM2 sono QuickOffice HD che ci permette di creare e editare i nostri file Word Excel PowerPoint e di salvarli o sul tablet o su soluzioni cloud come per esempio Google Docs Dropbox o altre soluzioni e poi abbiamo Evernote che sicuramente tutti quanti conoscerete per scrivere le vostre note poi c'è Motocast che è l'applicazione di cui parlavo prima per sincronizzare i dati i file multimediali che avete per esempio sul computer e poterli vedere direttamente sul tablet buona applicazione per estendere la memoria interna senza dover affidarsi a soluzioni cloud ricordiamo la memoria interna è la 16 giga non espandibile utilizzando Motocast potete accedere ai contenuti del vostro computer quando siete sotto la vostra rete wifi quando siete fuori siete un po' limitati dovete accontentarevi dai 16 gigabyte bene andiamo adesso a vedere la parte browser apriamo il nostro sito www.androidgeek.it il sito verrà aperto in modalità mobile dovremo andare a switchare manualmente nella versione desktop non è nemmeno possibile forzare questa modalità attraverso impostazioni del browser come si può fare su ice cream sandwich il caricamento della pagina è veramente molto rapido anche se siamo sotto rete wifi comunque lo scrolling come vedete è molto buono anche il pinch to zoom molto reattivo entriamo in una pagina dove c'è ad esempio un video in flash così da mostrarvi la riproduzione dei contenuti flash come vedete possiamo continuare a navigare anche se il video è in riproduzione e anche in maniera abbastanza fluida ovviamente doppio tap per fare lo zoom e pinch to zoom anche per zoomare lì proviamo adesso a entrare nella pagina del corriere dello sport che è notoriamente molto pesante anche anche in questo caso viene aperta la versione mobile andiamo nella versione desktop come vedete molto fluido pinch to zoom senza problemi e andiamo a riprodurre un video anche in questo caso diciamo che quando sono tornato al 100% parlando con la società ho fatto presente società intere ho fatto presente il fatto che volevo andare a giocare per comunque come ha detto il presidente riguadagnarmi il posto continuiamo a navigare la navigazione continua senza problemi anche se stiamo riproducendo un video in flash altra caratteristica del browser che ha implementato Motorola è la tecnologia intelligent grip suppression che permette di individuare quando abbiamo il mano il tablet e invadiamo l'area utile dello schermo con il nostro dito per esempio stiamo continuando a scrollare normalmente invece di scrollare avremo un effetto di zoom e in questo caso con la tecnologia intelligent grip suppression possiamo continuare a scrollare senza problemi come vedete invece di avere l'effetto di zoom per quanto riguarda la riproduzione di contenuti multimediali quali film non avrete non avrete problemi potete riprodurre qualsiasi tipo di file anche mkv a patto di installare un riproduttore e i relativi codec vi consiglio l'mx video vi faccio vedere un video che ho caricato qui che è un formato blu-ray 720p che viene riprodotto senza problemi il film l'ho visto intero dalla batteria 100% sono arrivato intorno al 20% e sono due ore e mezza comunque il video è molto pesante 720p in blu-ray e quindi il processore lavora abbastanza pesantemente dicevo prima delle prestazioni grafiche che sono molto buone su questo tablet e dimostriamo con il gioco Shadowgun un gioco che abbiamo recensito sul nostro blog e che a livello grafico richiede molte risorse come vedete anche a livello grafico il tablet offre delle ottime prestazioni bene prima di giungere alle conclusioni facciamo vedere qualche benchmark di rito anche se personalmente non credo all'utilità dei test benchmark per misurare le prestazioni reali di un dispositivo comunque per la cronica le facciamo anche noi partiamo da Quadrant ok vediamo i risultati abbiamo ottenuto un 2503 non so se riuscite a vederlo per la cronaca il Motorola a XUM 1 la prima versione dello XUM si fermava sui 1775 Quadrant è un benchmark per misurare un po' prettamente le prestazioni grafiche della CPU andiamo a vedere qualche altro bench passando per magari l'impact che è prettamente utilizzato per misurare le prestazioni della CPU in single thread e in multi thread in single thread lo XUM stava sui 32 lo XUM 2 sui 45 in multi thread lo XUM 1 stava sui 60 qui stiamo sui 65 70 più o meno andiamo avanti vediamo l'ultimo benchmark che è Vellamo che è stato sviluppato da Qualcomm è un test per misurare le prestazioni del tablet per quanto riguarda il browsing il caricamento delle pagine web contenuti javascript e di altro tipo ecco qui il risultato 1072 per la cronaca il Motorola XUM 1 si ferma sui 919 920 e il Razor non va oltre i 900 bene giunti alle conclusioni c'eravamo posti una domanda all'inizio della recensione era veramente necessario introdurre una nuova versione del Motorola XUM io direi di sì perché innanzitutto Motorola ha fatto benissimo a diversificare l'offerta con due tablet uno da 10.1 e l'altro da 8.2 la versione 10.1 adatta soprattutto per coloro che vogliono un grande schermo e sono più orientati a utilizzare il tablet per uso multimediale per vedere film per giochicchiare qui e là e per usarlo praticamente per un uso domestico questa versione da 8.2 non ha nulla che invidiare alla versione più grande e ha della sua il fatto che è molto più piccolo leggero e trasportabile ho detto all'inizio che è veramente molto leggero e potete metterlo in uno zaino in una borsetta e veramente scomparirà non noterete la presenza in quanto ha materiale di costruzione non ha nulla che invidiare al primo XUM quanto ad hardware nemmeno perché siamo andati a migliorare con il chipset OMAP 4430 con il processore da 1.2 GHz un tablet che io personalmente mi sento di consigliare a tutti coloro che stanno cercando un tablet per la trasportabilità che vogliono la trasportabilità e ne fanno un elemento di forza con questo tablet andate sul sicuro il prezzo forse un po' elevato per la versione da 8,2 pollici parliamo di un prezzo intorno ai 400 euro anche se potete trovarlo a qualcosa in meno se spulciate bene su internet unica pecca che secondo me Motorola ha sbagliato a affidarsi solamente alla versione da 16 giga senza la possibilità di estendere la memoria interna con una scheda sd anche se il van è presente l'ho detto ampiamente nella recensione e chi compra questo tablet è bene che lo sappia non potrà estendere la la batteria scusate la memoria interna con la sd con questo è tutto vi rimando al blog android geek per leggere la recensione scritta esaustiva bene ho finito un saluto da Luca di androidgeek.it alla prossima a Grazie a tutti.